Ciao a tutti e benvenuti a questo gameplay è rimasto che avevo affrontato tutti i livelli avevo affrontato il boss di questo livello degli artigiani e adesso mi manca da completare le ultime cose in primis devo andare a cercare l'uovo nel livello... come si chiama? colline pietrose quindi vado vabbè il castiglio qua, vabbè sto qua dentro là vado perchè quel drago mi aveva detto che era stato rubato da questo personaggio vestito di blu e quindi ragazzi devo andare a a cercarlo e a trovarlo una volta che lo trovo devo sicuramente farlo fuori e recuperare l'uovo di drago che ha rubato e come potete vedere vedete? un uovo con i punti di domanda allora trovo qua vediamo un po' intanto vado di qua dai ciao ecco non c'è niente niente da fare ciao eheh 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 lo sento qua sopra sentitelo allora ahah qui c'è solo l'infetto lavato qua e vediamo se posso salire eheh si qua e che l'ho sempre in alto vediamo un po' se è qua guarda qui bella vista qua c'è oh una spiaggia ma se la posso sento giù no voglio rimanere qua adesso trovo quelle quelle essere che rivede eccolo eccoti qua lingo stronzo ah guardate la roba in mano adesso ti becco prima o dopo prima o dopo taglio l'ingornata vieni qua ti becco prima o dopo ti sono vicino oh cazzo e vai guardate un po' che è stato malefico bene beccato anche l'uovo però sono un altro ah perché non ho beccato ok la valle oscura l'ho fatta tutta il borgo antico eh mi manca un altro drago volo di uno vabbè tosto l'ho battuto appunto artigiani quasi al massimo io dopo vado anche le gemme allora io andrei dopo andiamo al borgo antico perfetto perfetto ragazzi intanto mi faccio il giro anzi visto che ci sono vado anche nella spiaggia chi è qua ecco qua ah ecco come si torna solo che figo e qui una chiave ma che figo una chiave eh mi fate ricordare dove andava usata no cazzo la chiave ahia chiave chiavetta mhm vediamo un po' se andava giù era qui una chiave si vai mi sento bene ma perfetto fantastico ragazzi vediamo se adesso completare anche questo livello vabbè qua non c'è niente voi non mi date la mazza ahia ahia ciao eheh uuuuh stronti qua il ma che merlini qua before kids to qua ok eheh 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 quattorno su vabbè eheh 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 siamo sempre la dove ne trovo ste gemme che vabbè eheh 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 che ponte sempre la saletta saletta Sì, grazie Allora Questa là dove c'è la cupoletta, no Quella con la cupoletta E' qua Allora, io vado qua Allora, possiamo posire Aia Provo andare qua Altri punti dove andare a beccare Queste gemme Vediamo un po' Ma queste posso distruggerle? No Qua si illuminano perché Vediamo un po' La faccio per tutti Se sblocco qualcosa Un avanti La propria Oh, un tesoro Andiamo a arrivare a 200 però Oh Ok Sì, 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 sì Allora Laggiù c'è una gemma Qua non ci posso andare Lo dobbiamo che non vorrei perdere qualcosa Ecco l'altra Eccole Novantadue Novantadue Oh, qua dentro allora E vai Arrivano a 200 Eccola E vai Arrivano come tal E torna indietro E torna indietro Fantastico ragazzi Allora Allora Devo andare sul Borgo antico Borgo antico E a quel punto Mi pare sopra levato La caos Arriverà qua Non so Borgo antico Vabbè Da lui posso andarsi Ma Ci voglio andare dopo No Allora Facciamo così No Non ci arrivo Vabbè Vabbè Allora Così Vabbè 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 Borgo antico Non pare che vuole Non si arriva Il borgo antico Oh sì Non mi ricordo più Ragazzi Perfetto È qui Ma No ma quello è un drago tracchino che non è come salire è quello che ne avevo preso chi c'è arriva la mi serve appunto un super elevato cosa ci vuole leggere anche la crepate c'è tipo io qua non ce la faccio che bel mistero ragazzi ho pure qua guardate che roba ma cazzo sono caduta allora intanto vado qua ma io devo andare su ma facciamo così da qua non posso fare niente no ispira salta troppo poco non mi resta cambiare qua e la donna aiuto e tentare ma pure qua serve l'uovo pensa a te un po' ti beckerò non c'è poco la riddor creda tu cioè io ragazzi non veramente qua io non so come fare cioè com'è che devo fare io qua se non posso è qua come cazzo arrivo io c'è boh pitte per tutti non è che scrivassi grappi ok non possiamo scrivere quel punto la no assolutamente a meno che io non faccia un po' di questo gemmine c'è un marco l'angolo ragazzi riuscirci eh vai ce l'ho fatta ora sono cazzi tua vieni qua stronzo oh merda non è andato che bastardo ragazzi vieni qua dove cato sono i bambi ma porca miseria c'è una scena che giù su stronzo allora fatemi fatemi in pratica tornare indietro meno male ho capito che mi arriva da lui da cazzo che palle però potrebbe saltare un po' di più il sospiro daje no santa maria madalena no niente a fare ma porca puttana perché non gaffo più sì il ciavone miaura ragazza con stronza ah perché qua in realtà ok figata e qua arrivo là ma quello stronzetto dove è andato? si io poi spario è andato giù e spario vabbè in realtà mi occupo di prendere questo poi ecco di qua è andato a finire acqua e cos'è sta roba? oh oh allora oh oh torler è uscito quell'essere pensa un po' alla faccia ehm vabbè qua si parla solo di vabbè questo vabbè è il mini gioco questo che ho i soliti gemmi quindi ragazzi io tornerei indietro fantastico fantastico non ci ne è accorto che l'ho fatto poi con lo stronzo cioè era sceso e poi fantastico sono proprio contento bene ragazzi adesso vado dall'aeronauta ehm non so se era quella strada ah no qui è così allora ciao stronzi per andare dall'aeronauta ehm qui c'è una stata gemma per beccare qui il problema è come non c'è una stata famosa niente boh vabbè allora che sia qua eccolo eh già se vuoi ora puoi raggiungere il mondo dei pacificatori sei pronto a partire? assolutamente si che gentilezza aspira che figliata ragazzi ehm 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 e se cosa vi accetta? il caro spiro ehm 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 e se cosa vi accetta? Che figata Vamos in questo nuovo livello Titan Il tesoro è stato rubato e usato contro di noi Ti prego Spyro, recuperalo Trovare il tesoro, ricetto Salve Allora, vediamo un po', no, scusate Tre draghi e anche qui nuovo Oh, luogo desertico, immaginavo Eh, troppo tardi che era bello Vediamo un po' se posso farlo funzionare Sì Un po' che aiuto Guarda questo luogo, mi piace Camion arido Abbiamo già arido tutto qua Quindi non è che ci sia molta differenza In quanto a Aridità Salve Tu nel culo Si, si, si Che carino, ragazzi Ok Oh, tu Si, 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 si ti pensavo anche di salvarsi sti qua Che pirla che siete oddio ma che bello eh però ti faccio un regalo grande rupo salve ho ottenuto punto abilità? ah si? ma che figo grazie ah ma tu sei sempre il tizio il mondo degli stregoni è lontano e molto pericoloso Gosnold l'aeronauta faccia del cazzo non so un po' troppo 1200 ti ho bollino dicendo tre storie rubate siete impazziti come grotta ghiacciata c'è pure ghiaccio interessante altro drago da salvare ehi Spyro Sparox la libellula sta facendo un ottimo lavoro nel proteggerti mantienele in forma dandole tante farfalle da mangiare vabbè che sono fatto ridere con questa sua panza eh io non so come mantenerla con queste cose qua vabbè che cazzo sono ste robe siamo dei tesori con delle leve ma andiamo da Dottor Schemp andiamo un po' chi sarà mai? ma che figata eclessi di luna aiuto porca troia ma chi è sto pazzo screlato? e tu che cazzo saresti? c'è un bambucaroniere sacco pa? cazzo è tua oh ma cazzo ma è possibile che mi fanno molta male così? se io non so Dio furbo che figlio di avete capito cosa intendo non dovrei far tutto cioè e dopo si uccidono? no sta eclessi di luna è bellissima ragazzi lo spettacolo proprio aiuto cariapati ma cos'è son pazzi letteralmente ragazzi se queste si fanno fuori da sole tocca cosa impari vaffanculo ma soltanto è fastidio questi qua però aiuto che pirla in questo non riesco a arrivarci che al momento ce l'ho detto sì però da cazzo questo ti impiro tu grazie non deve fare un culo ci c'è bombi canonieri qui c'è la chiave ecco schiatta oh oh no dovevo prendermi prima le cassine qua ok adesso posso andare su allora da qua posso andare lì ma se che lei si vede una bellissima tanto prendo madonna stavo per cadere giù ho sbagliare misure è meglio andare qua madonna spiro ok altro drago trondo il dottor shampel si crede chissà chi non immagini che seccatura sia doverlo stare a sentire ma lascia che ti dica una cosa farà bene a guardarsi le spalle trovate tutti i draghi ma perfetto eh vabbè guardate la cul che bruza eh sì mamma mia questo si è bella ragazzi tanto ormai oh merda me la copa la vaffanculo la che stronza me la tirano da sverga ha cambiato tipo di attacco bastarda allora e qua vuoi farlo tutto da capo allora intanto mi guardo se c'è roba da prendere dai dai e invece qua ha un nuovo tipo di attacco sono fuori a ricevere la fiammata nel culo eeeh c'è ti capo da o cosa dico io quindi dai 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 lo sono cascato dai mamma mia no oh finalmente si è schiattato finalmente qua c'è roba da raccogliere no finalmente è crepato nanananananananana ritorno a casa di già oh oh ah la chiave fantastica fantastica eh eh hm fantastico 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 ah arrivo dal cinciabombo di prima se ne sono tornato indietro tanto qua non posso fare altro infatti è un po' sfrato eeeh ah no non c'era ok ma porca troia toh cazzo toh cazzo toh cazzo se è vero che vuoi non si è imparata a fare gli strozzi ahah eh 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 eeeh fatemi un atomo tornare qua eh forse c'era altro da fare ma cosa ha da sbloccare non so no inoltre no bene queste aiglicie è ramfigate ragazzi soddisfazione fare fuori a poco che mi hanno fatto questi stronzi ah cavolo ma qui dove sono arrivato però io a porca miseria ma laggiù c'è anche una gemma mi ha detto che tornare qua e tornare indietro mi permette di tornare a casa è uguale torna a casa set vale dal lato in a costo Bene ragazzi, questo è il video che vi faccio qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima. Ciao a tutti!